Slippin' through our heads We have one day Ciao, sono Fabrizio Santi, ci troviamo al Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa. Sono qua per fare degli stage di hip hop con i ragazzi della scuola. Abbiamo fatto due giorni molto intensi e sono dei ragazzi che spingono tantissimo, nel senso hanno una bellissima energia e sono molto aperti mentalmente. Non sempre è facile, di solito c'è una chiusura, perché cambiare insegnante è difficile. Non è sempre facile capire quello che vuole e dove si va a mirare. No 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 Io insegno hip hop da troppi anni ormai, quindi sono un po' vecchiotto, però ancora ho degli stimoli, lavorando con dei ragazzi in questo modo si trovano degli stimoli per andare avanti, per studiare e per lavorare sempre. Io insieme a Claudio Scafidi e Serena Mignano organizziamo un evento, un grande evento da sei anni, che si chiama Mad for Dance, è un evento e all'interno ci sono stage e concorsi, sia di danza classica, hip hop, contemporaneo, coreografico, e con questo noi arriviamo a portare degli elementi di livello internazionale che vengono da New York, dall'Olanda, dalla Francia, dalla Spagna per far studiare i ragazzi italiani ad un prezzo decisamente basso. Abbiamo ballato, abbiamo invitato anche a parlare un po' della cultura, soprattutto della cultura hip hop, Mr. Wiggles, che è uno dei personaggi storici dell'hip hop. Insieme a lui sono venuti molti altri, sempre dall'America, dalla Svizzera, quindi cerchiamo di dare ai ragazzi che vengono a studiare a noi un'infarinatura a livello mondiale. Ciao dal Centro Danza Savona, vi aspettiamo qua per i prossimi stage. Grazie a tutti.